gentili telespettatori buona giornata purtroppo ogni giorno c'è uno o più video dove io vi racconto ecco la frottolona della schline ecco la bugia che ha raccontato oggi purtroppo il modo di fare politica di questo capo politico del partito democratico è quello di dire bugie per attaccare il governo voi direte ma come dire bugie ma cosa vuol dire sei tu che dici che sono bugie ma perché non ti fanno non ti fa piacere quello che dice la schline in realtà tutti i video io ve li ho commentati quindi non è che io dico non è che io dica che la schline a priori dice bugie così tanto per dire che dice bugie ormai si dice che dice bugie continuiamo a dirlo io ogni video vi do delle motivazioni come nel video precedente vi ho parlato della schline che dice che il governo meloni costituisce il reato di solidarietà perché se un ong fa un secondo soccorso dopo che gli è stato assegnato il porto di sbarco viene confiscata la nave e quindi fa un si costituisce un reato di solidarietà è una frottola perché quando alla ong si dice vieni al porto non ti preoccupare di quel soccorso lì perché ci stiamo andando noi con la guardia costiera ecco che magicamente il reato di solidarietà non esiste se lo è inventato la schline perché a lei fa piacere vedere le cose in questo modo fa piacere vedere che è tutto negativo che è un governo di cattivi pertanto utilizza il denigrare il governo con delle tesi farlocche spiace dirlo che un capo politico di un secondo del secondo partito italiano utilizzi il metodo delle bugie per contrastare il governo meloni ovviamente è un'area politica che non ha forza che non ha leadership che non ha idee e utilizza lo spauracchio il fascismo e le bugie per contrastare un qualcosa di cui non sono capaci oggi tutti gli opinionisti dicono che c'è un solo politico oggi in italia piaccia o no è giorgia meloni stia facendo bene o non bene le promesse elettorali le mantiene o no comunque sia è l'unico politico che c'è oggi quindi la sinistra utilizza la frottola per continuare con a seminare l'idea che il governo faccia tutto sbagliato pertanto oggi ci dice la prima frottola è quella che vi ho raccontato andiamo alla seconda dice mi rifiuto di chiamarlo decreto cutro serve più rispetto è un decreto che vuole rendere più difficile salvare vite e viola il diritto internazionale del mare quindi il decreto è contro il diritto internazionale del mare si chiede supporto alla ong è caduta accaduto persino quando le modovedette dalla guardia costiera hanno fatto finito il carburante ma loro arrivo lei si sanziona e criminalizza fermandole per 20 giorni si fa la guerra alle ong che stanno sopperendo alla grave assenza di una missione istituzionale di ricerca e soccorso nel mare un mare nostrum europeo e in europa il governo muto non credo ci sia altro da aggiungere di fronte a un governo che ritiene una colpa salvare vite e non un dovere morale forse una sola parola disumano la solidarietà non è reato allora governo disumano questa bisogna rispingerla completamente al mittente è un'offesa gratuita il governo ritiene una colpa salvare vite e non un dovere morale questa è un'altra bugia che si è inventata completamente lei il governo non ha mai e poi mai detto che salvare vite non è un dovere morale o una colpa salvare vite questo il governo non l'ha mai detto quindi anche questa è una bella e buona bugia grossa grossa poi il fatto che viola il diritto internazionale del mare il decreto crutro non è vero se no non sarebbe stato firmato da mattarella dal quirinale non sarebbe passato il vaglio della costituzionalità punto primo già questo serve a smontare la bugia seconda cosa come vi dicevo nel video precedente quando un'imbarcazione salva delle persone e gli viene dato un porto di sbarco immediato il governo dice vai al porto senza più fare salvataggi questo non è contro il diritto internazionale del mare perché c'è una piccola c'è una piccola dimenticanza della schline ovviamente voluta una dimenticanza voluta che è importante e fa tutto il discorso il fatto è che quando l'ONG ha i migranti sulla nave sta andando verso il porto di sbarco a quel punto riceve un'altra dichiesta di soccorso l'italia di a quel punto gli dirà senti puoi andare vai tu perché noi non facciamo a tempo è troppo lontano vai tu che sei lì quindi il governo ti autorizza ad andare a fare questo secondo salvataggio oppure ti rispondono vai dritto al porto di sbarco assegnato e ci vediamo ci pensiamo noi dov'è la violazione del diritto internazionale del mare non c'è se l'è semplicemente inventata a questo punto guardate non so non so se dirvi che la schline lo fa apposta sapendo di mentire oppure oppure non sa di mentire nel senso che non ha conoscenza approfondita o anche una una conoscenza sufficiente di questi temi come di altri che la porta a raccontare delle bugie dei luoghi comuni perché se tu non hai conoscenza di questo argomento e ti dicono guarda che il governo dice alle ONG di fare un solo salvataggio se ti fermi qui allora parli di diritto internazionale di ma se solo questa notizia la studi per cinque minuti tre minuti e ampli e capisci che non c'entra niente la violazione del diritto internazionale ma tutto viene fatto comunque in regola quindi non si capisce se lei lo faccia apposta o proprio non sappia le cose in comunque sia in tutti e due i casi abbastanza grave arrivederci a tutti e grazie